buongiorno a tutti allora la mia sfida è parlarvi di immagini senza farvi vedere neanche un'immagine quindi allora appunto cercherò di parlare per dare qualche indica ok scusate tra l'altro io ho una voce bassissima quindi sarà un casino ditemi se non si sente eccetera volevo darvi qualche indicazione appunto per fotografare per i social prima e durante lo scatto e anche soprattutto dopo no tra l'altro ho anche la complicazione del appannamento degli occhiali è una sfida continua prima di tutto mi presento velocemente sono una fotografa di interni lavoro quindi con architetti interior design stager per cercare di far vivere una casa e sono anche una fotografa di eventi diciamo così mi sdoppio quindi lavoro con agenzie di organizzazione di eventi e con aziende per far rivivere vabbè me li tolgo così se no non vedo non vi vedo però per cercare di far rivivere un evento all'inizio però della mia tra virgolette carriera da freelance ho iniziato un po per divertimento un po per necessità a gestire delle degli account social ed allora non ho più smesso perché prima di tutto mi diverte e secondo ovviamente fotografie social sono un continuo diciamo così sono molto molto legati ovviamente quindi ho diciamo così cercato di affinare la tecnica prima però di passare così il mio talk è molto molto pratico come vedrete volevo iniziare con un compito quindi vi do subito un compito perché perché secondo me prima di tutto prima di arrivare diciamo così al lato pratico bisogna un attimo capire l'educazione alla bellezza io ci tengo molto perché comunque vedo tantissime foto bellissime su sui social facebook instagram soprattutto ma c'è ancora qualche diciamo così lavoro da fare secondo me siccome ormai tutti oggi facciamo fotografie agli eventi di noi stessi dei nostri prodotti del nostro lavoro eccetera ma non tutti siamo fotografi e non tutti possiamo diventarlo perché appunto magari non è il nostro mestiere comunque ci vuole tanto studio tante esperienze eccetera e tutti fotografi che sono qua me lo confermeranno c'è però una cosa che tutti noi possiamo fare ovvero prendere consapevolezza delle immagini che che guardiamo che vediamo tutti i giorni siamo tartassati di immagini quindi siamo tutti abituatissimi a vedere le immagini quindi il mio compito è questo vi faccio subito una domanda c'è un particolare profilo o anche più di uno su quando pensiamo per esempio al nostro feed di instagram che ci colpisce particolarmente che ci piace se dentro di voi avete risposto sì benissimo se avete risposto no c'è appunto un esercizio che si può fare che sono le cosiddette raccolte su instagram ovvero gli elementi salvati non so se tutti lo sapete in basso a destra nelle fotografie di instagram c'è una bandierina che vi permette appunto di salvare quella fotografia in varie raccolte le potete fare infinite che potete chiamare come volete albero cielo o pane quindi questo è un esercizio che potete fare a distanza anche di giorni di mesi anche di anni io adesso mi ritrovo delle foto vecchissime di tantissimo tempo fa e qua viene il bello a cosa serve questo esercizio perché nel momento in cui voi avete raccolto un po' di immagini e le scorrerete tutte insieme potete appunto prendere consapevolezza prima di tutto delle cose che vi piacciono vi piacciono di più vi piacciono di meno vi accorgerete che ci sono delle cose che magari a distanza di tempo non vi piacciono più o magari vi piacciono di più noterete che magari ci sono degli elementi comuni a tutte queste fotografie o al contrario non ce n'è neanche uno perché? perché comunque il gusto personale cambia, cambia nel tempo e cambia anche grazie all'ambiente che ci circonda, giusto? quindi alle immagini che siamo abituati a vedere quindi la cosa più importante è farci caso proprio, notare che cosa vi piace e cosa no questa secondo me era una premessa doverosa perché l'educazione della bellezza è proprio un allenamento che noi possiamo fare e dobbiamo fare e può non essere immediato farlo soprattutto se facciamo tutto altro nella vita quindi detto questo appunto quindi primo compito mi raccomando fatelo perché non sembra ma serve tantissimo anche nelle vostre fotografie perché magari vedrete qualcosa che vi piace moltissimo e allora cercherete di imitarlo oppure direte no questa cosa non mi piace assolutamente non la farò mai quindi insomma fatelo detto questo appunto veniamo ai consigli che vi voglio dare diciamo così le cose da dire sarebbero tantissime ho estrapolato cinque cose che secondo me sono utili prima di scattare e Deborah in questo senso mi ha aiutato perché ne ha già dette due fondamentali che sono inquadratura e luce ovviamente video e fotografia sono molto diversi però ovviamente hanno tantissimi aspetti in comune la prima cosa sicuramente è l'inquadratura pensate quale taglio volete dare alla vostra foto che tipo di ripresa volete fare che tipo non so volete fotografare dall'alto dal basso lateralmente ce ne sono migliaia di inquadrature possibili giusto la cosa fondamentale appunto è rendersi conto di dove far cadere l'occhio della persona che sta guardando la vostra immagine quindi inquadratura ovviamente fondamentale la seconda cosa è la luce la luce che per eccellenza appunto è la cosa più importante della fotografia vi consiglio appunto di farci ben caso al tipo di luce che avete a disposizione e pensare diciamo così se è sufficiente per creare l'atmosfera che volete raggiungere oppure no se dovete magari aggiungere qualcosa, qualche punto luce eccetera o magari anche se volete creare un'atmosfera un po' particolare ok benissimo una luce sola tengo quella e la sfrutto bene anche perché poi in base alla luce ovviamente nascono le ombre quindi pensare a dove sono le ombre all'interno della nostra fotografia è fondamentale il terzo aspetto anche questo fondamentale è la composizione fate attenzione a come componete la vostra fotografia e come volete posizionare i vostri soggetti ovviamente dipende dal tipo di foto che state facendo ma vi accorgerete che ci saranno delle composizioni piene delle composizioni vuote vi dovrete rendere conto se magari ci sono troppi elementi o troppi pochi l'esempio classico per esempio che vediamo tutti i giorni su Instagram è il flat delay ovvero la foto dall'alto una cosa sul flat delay tra l'altro che appunto è strausato tutti pensano ok metto al centro dell'inquadratura il soggetto su cui voglio porre l'attenzione e tutto intorno metto gli elementi che compongono la composizione non è sempre così perché la cosa fondamentale è capire dove le linee della mia fotografia degli elementi che compongono la mia fotografia portano l'occhio quindi comunque insomma non è detto come per esempio vi faccio un esempio molto pratico se fotografate e volete fotografare un quaderno per esempio ci mettete intorno come tecnicamente si chiamano props ovvero appunto tutti gli elementi che fanno da contorno all'immagine state fotografando un quaderno pensate a una penna e tanti altri elementi che compongono l'immagine se indirizzate per esempio la penna verso il quaderno l'occhio automaticamente andrà sul perché? perché la penna fornisce una linea un elemento indiretto che spinge l'occhio a guardare proprio il quaderno quindi appunto la composizione è fondamentale il quarto aspetto che vi voglio sottolineare prima di scattare è lo zoom lo zoom, allora lo zoom del cellulare io consiglio sempre di non zoomare prima dello scatto perché? perché non è così preciso lo zoom a meno che appunto voi non abbiate cellulari particolarmente prestanti per esempio io ho comprato da un mese l'iPhone 11 che è nettamente superiore al cellulare che avevo prima che era un Honor e diciamo così le prestazioni dello zoom sono nettamente migliori dell'Honor però tendenzialmente un cellulare appunto non ha un buono zoom il mio consiglio sicuramente è di avvicinarsi al soggetto ovviamente se proprio non si può fare allora potete zoomare dopo quindi tagliando la foto una nota tra l'altro che vedo che ancora tantissimi non lo fanno se volete mettere a fuoco il soggetto che state fotografando basta fare tap sullo schermo sembrerà banale dirlo ma vedo che tantissimi ancora non lo fanno quindi in quel modo appunto riuscirete a mettere a fuoco il soggetto il quinto elemento invece è il flash questa è una nota dolente nel senso che non so se devo andare d'accordo ma il flash del cellulare è perfettamente inutile è inutile perché proprio tecnicamente ha un raggio d'azione molto molto corto quindi non illuminerà niente della scena che state riprendendo vi faccio un esempio il classico esempio ai concerti in cui si vedono tutte quelle lucette dei cellulari cosa ottenete se fate una fotografia col flash? riprenderete la spalla di quello che avete di fronte il cantante, la band eccetera che state riprendendo verrà scurissimo il flash dove potrebbe essere utile per esempio in un'occasione come questa se vi salmare volete riprendere una persona davanti e riva al mare in pieno giorno il flash vi può aiutare perché? perché in pieno giorno il sole è alto sicuramente formerà delle ombre sotto gli occhi sotto il naso, sotto il mento eccetera il flash vi può aiutare ovviamente sempre molto vicino a togliere quelle ombre che si creano automaticamente secondo me pensare a questi elementi appunto in quadratura, luce, composizione, zoom e flash vi può aiutare anche in post produzione perché diciamo così vi toglie degli elementi su cui poi dovrete lavorare dopo il mio consiglio comunque è di fare tantissime prove perché più prove farete e più scoprirete i punti di forza i punti di debolezza della vostra fotografia e soprattutto il vostro occhio si allenerà si allenerà sempre di più e capirete sempre di più certe cose vedrete che tra l'altro dopo un po' farete sempre meno prove e più scatti finali vi volevo poi diciamo così dare un suggerimento in base a quello che uso io sulle app di editing e di gestione per i social le app di editing sono a migliaia veramente ce n'è di qualunque tipo quelle che uso io di solito sono tre principalmente e sono Photor con la R finale che è un'app molto molto semplice tra l'altro sia per iOS che per Android e fa appunto è molto semplice ma secondo me fa il suo dovere e vi aiuta tantissimo la seconda app di editing è Snapseed che è quella di Google non so se la conoscete è già un passo avanti rispetto a Photor e è molto semplice da usare immediata quindi secondo me tutti dovrebbero averla e poi la terza che è Lightroom Lightroom ovviamente per me è il top assoluto anche perché la uso per lavoro su desktop quindi è veramente utile è già un po' più avanzata anzi molto di più quindi se siete delle prime armi magari non volete complicarvi troppo la vita inizierei appunto da un'app come Photor o Snapseed scontatemi un attimo che bevo per quanto riguarda invece le app di gestione anche queste sono un'infinità però diciamo così in base all'uso che si fa dei social secondo me sono tre le fondamentali una è Squareit per Android che ha la corrispondenza per iOS nell'app che si chiama Squarefit che serve per fare le cornici e per dare così un'impostazione precisa alla vostra fotografia se magari avete soprattutto tagli strani particolari poi c'è Preview che penso conosciate tutti che è un'app di gestione che vi permette di vedere il vostro feed di Instagram in anteprima senza aver pubblicato la foto e tra l'altro vi permette anche di ricordarvi di impostare delle notifiche per ricordarvi appunto di postare all'ora che volete e poi c'è Unfold che è un'app che io uso per le stories che ha dei template di base che è molto puliti molto chiari e appunto vi permette di fare delle foto belle organizzate e pulite detto questo appunto parlando di app poi ovviamente anzi se poi voi ne usate altre io sono sempre aperta a sperimentare provare nuove cose quindi consigliatemi pure se vi trovate anche benissimo con altre app perché secondo me lo scambio è fondamentale quindi si può sempre imparare ogni giorno nuove cose quindi assolutamente detto questo veniamo alle modifiche come dicevo prima ci sarebbero tantissime cose da dire vediamo diciamo così le indicazioni più generiche che potrebbero essere usate per diversi tipi di fotografia quindi dalla foto di ritratto alla foto di evento alla foto di prodotto eccetera la prima modifica di cui vi voglio parlare è la chiarezza la chiarezza è quella che dà tra virgolette carattere alle fotografie la chiarezza aumenta le ombre e accentua i dettagli quindi è per questo che dà dico che dà carattere occhio però andateci piano nell'usarla perché perché per esempio nelle fotografie di ritratto aumentando i dettagli e accentuando le ombre la foto la persona ritratta risulterà un po' più vecchia diciamo nel senso che comunque accentuando le righe i segni della pelle eccetera bisogna andarci piano per esempio la chiarezza è molto utile nelle foto di interno di prodotto perché comunque è molto molto utile la seconda modifica di cui voglio parlare invece è la nitidezza ormai oggi siamo abituati tutti a vedere schermi in HD quindi immagini ben definite aumentare la nitidezza o diminuirla dipende dallo scopo che volete raggiungere nella vostra fotografia vi può aiutare perché accentua appunto molto i dettagli non toccando le ombre la terza modifica di cui vi voglio parlare è l'esposizione l'esposizione è la quantità di luce che entra in camera quando fotografiamo aumentare l'esposizione o diminuirla dipende se appunto stiamo facendo una foto in riva al mare a mezzogiorno la luce è tantissima quindi potrebbe essere anche troppo luminosa la vostra fotografia toccare l'esposizione diciamo così modifica di molto la foto quindi tra l'altro tantissimi modificano l'esposizione anche prima di scattare si può fare immagino lo sappiate si può fare però anche dopo quindi è sicuramente una modifica da tenere in considerazione così come le ombre e la luminosità perché a volte alzando l'esposizione ovviamente si alza l'esposizione di tutta la fotografia se invece volete magari alzare un attimo l'esposizione solo di una parte potete toccare le ombre c'è proprio la funzione ombre che aiuta parecchio ovviamente le modifiche non devono essere nette a destra a sinistra ma magari moderatamente toccandola moderatamente si può aiutare e così come la luminosità una nota però sulla luminosità è che si rischiano spesso le bruciature quindi le foto sovraesposte andateci piano ma appunto sperimentate su ombre luminosità perché sono molto molto utili un'altra cosa che ti guardo devora perché prima hai detto lo sfondo quando non si può diciamo così togliere in fase di scatto una cosa che magari c'è all'interno dell'inquadratura si può magari a volte togliere dopo per esempio continuando a dire della fotografia arriva al mare magari c'è il bambino che piange dietro che urla lo togliamo dopo non se di una foto esatto certo esatto il video molto più difficile ma anche in fotografia è molto difficile però a volte si può fare oppure una carta per terra un cuscino fucsia all'interno che risalta moltissimo e distoglie l'attenzione dal soggetto che stiamo fotografando la correzione tra l'altro in Snapseed è fortissima è davvero una delle funzioni secondo me più belle di Snapseed è una sorta di gomma da cancellare tra l'altro se zoomate potete essere molto più precisi nella correzione quindi la stessa modifica invece è il pennello che è un'altra cosa secondo me molto molto utile perché vi permette di regolare esposizione saturazione e temperatura di una sola parte della vostra fotografia poi vabbè io andrei avanti all'infinito praticamente però veniamo un attimo ai filtri che secondo me sono abbastanza importanti perché ormai siamo tutti abituati a vedere foto effettate con filtri vari però c'è un limite a tutto nell'app di editing ci sono tantissimi filtri ma tutti quelli troppo una volta si usava su instagram real illusion era di moda non so se ve lo ricordate era un effetto usatissimo e rendeva la foto veramente veramente finta piuttosto cercate di crearvi un vostro filtro un vostro effetto tra l'altro in tante app di editing potete impostare degli effetti e poi usarli quando volete diciamo che secondo me come dicevo prima la cosa fondamentale è provare infatti vi invito comunque a fare una fotografia oggi di qualunque cosa non per forza di una persona che parla o una qualunque fotografia e la cosa importante è vedere il prima e il dopo quindi lo scatto di base e poi lo scatto modificato mettere prima mettere a confronto queste due fotografie vi aiuterà a capire che cosa avete sbagliato che cosa avessi potuto fare e che cosa invece è giusto diciamo così vi piace tra l'altro se poi la pubblicate taggando il freelance camp e volete taggarmi mi trovate come sarasold su instagram ok detto questo il come avete intuito l'editing non è una scienza esatta nel senso che ovviamente dipende moltissimo dal gusto però c'è una secondo me è una cosa molto curiosa che a me stupisce sempre se fate una foto oggi e la rifate al prossimo freelance camp o fra una settimana vedrete che comunque ci saranno delle cose che continueranno a piacervi ce ne saranno altre invece che non vi piacciono più perché perché comunque cambierà il contesto cambieremo noi e quindi sicuramente nel corso del tempo ci saranno delle modifiche fondamentali quindi sicuramente sarà cambiato il vostro atteggiamento quindi vi consiglio appunto questa cosa di fare un prima o un dopo e anche un prima o un dopo a distanza di mesi o settimane basta direi che ho concluso qui e vi ringrazio grazie 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 grazie